Il presidente del Consiglio Comunale dell'Aquila, Roberto Tinari, interviene sul cementificio di Cagnano. Il Consiglio intende raccogliere infatti le preoccupazioni e gli allarmi espressi dalla popolazione di Cagnana-Miterno nonché dalle associazioni dai sindaci dei comprensori dell'Alta Valle dell'Aterno in merito all'incenerimento di CSS, combustibile solido secondario, da parte del cementificio Exacci. Per questo sarà convocato un Consiglio Comunale straordinario aperto per discutere sulla questione dello stabilimento cementer di Cagnano alla presenza dei sindaci e di esperti dell'ambiente. L'ex cementificio, gestito dal colosso Ital Cementi da gennaio scorso, avrebbe già avviato l'incenerimento del combustibile CSS, un prodotto derivante dalla lavorazione di rifiuti urbani per la produzione del cemento. I sindaci della zona, Monte Reale, Barete Pizzoli e Tornimparte, con una delibera già approvata dai rispettivi consigli, chiedono la sospensione delle attività. È necessario fare chiarezza circa gli effetti negativi connessi alla combustione del CSS negli inceneritori a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in un territorio a ridosso del parco. L'Arta ha inoltre il dovere di monitorare le emissioni, la richieduta degli inquinanti e dei metalli pesanti. Ci chiediamo che posizione intende assumere la Regione, scrive Tinari e conclude, che aveva autorizzato in via sperimentale l'uso del combustibile con il protocollo d'intesa Progetto CSS Abruzzo, sottoscritto con il Consorzio Ecocarbon nel mese di novembre del 2014. È importante sapere se il cementificio ha l'autorizzazione integrata ambientale. La salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente vengono prima di tutto.